...boxi femminili che visitano sui tre anni da due minuti ciascuno, per la cattoria 257 kg. All'anno rosso, con un pezzo di record, vinto dal film 12 favore di Milano, Sonia Ciamus. All'anno rosso, con un pezzo di record, vinto dal film 12 favore di Milano, Sonia Ciamus. All'anno rosso, con un pezzo di record, vinto dal film 12 favore di Milano, Sonia Ciamus. All'anno rosso, con un pezzo di record, vinto dal film 12 favore di Milano, Sonia Ciamus. Vai Sonia! Vai Sonia! Vai Sonia!